Bella a tutti ragazzi, qua Argasmic e sono qui a darvi il benvenuto nell'Azar Road to Chelsea, nuovo episodio, dopo un po' lo porto sul canale Un episodio che si apre con l'acquisto di Kyle, difensore più forte che c'è nel Chelsea perché non abbiamo grandissimi difensori Però Kyle è quello che ha una buona velocità e ha buoni comunque valori di difese fisico, quindi è il nostro perno difensivo Che comunque con Zuma forma una buona coppia, dovevo assolutamente prenderlo perché oltre ad essere forte mi è stato consigliato da quasi tutti voi Continuate a consigliarmi i giocatori da prendere nei prossimi video anche se comunque stanno finendo e presto andremo a giocare nel torneo oro Comunque andiamo con una nuova partita, con la prima partita dell'episodio, troviamo questo giocatore con una squadra veramente molto bella Un'ibrida molto forte anche se soli di due campionati più o meno La partita è abbastanza equilibrata, tranne che verso il 35esimo faccio una stupidata con il difensore, con Aspili Queta Che viene espulso, l'avversario non segna in quel caso, segna alla fine dopo che sono con i denti, sono riuscito a tenere praticamente tutta la partita Purtroppo segna Rondon con un tiro abbastanza fortunoso perché ha colpito anche il palo e poi io mi mangio di tutto nel finale Come potete vedere qui Drogba ha il pallone dell'1-1 che magari mi avrebbe fatto perdere ai supplementari In ogni caso perdo nei tempi regolamentari 1-0 comunque ci stava perché dopo quella stupidata Forse non meritava il rosso Aspili Queta però dopo quella stupidata ho veramente subito tanto Essendo espulso ho dovuto comprare per forza Filippo e Luis che comunque sarà titolarissimo perché è veramente forte E quindi ci saluta con pochissime partite giocate Dave Aspili Queta, Cesar Aspili Queta ha detto Dave Nuova partita, la squadra si sta formando Purtroppo Drogba ha giocato una partita bruttissima quella la scorsa Adesso si può rifare contro questo avversario che comunque ha una buonissima squadra Però non ha una difesa super veloce almeno per quanto riguarda la parte di sinistra Infatti parto subito alla grande con un gol di Oscar che ragazzi si dimostra essere un giocatore fenomenale Guardate qui che azione Salta i due giocatori e la mette in mezzo con un'azione meravigliosa E arriva il gol di Salah che anche adesso si sta risultando davvero un ottimo giocatore Lo vedrete anche più avanti Oscar giusto per fare un golasso riesce da fuori aria a tirare questo tiro a giro Un suo classico gol per dirla tutta Che poi riesce a liberare anche Drogba per il gol del 4-0 Quindi siamo tipo a due gole, due assist, qualcosa del genere per Oscar Davvero un giocatore fortissimo, mi è piaciuto tantissimo E poi un altro bel gol di Salah che riesce a saltare il portiere con una finta Finisce 5-0, partita vinta abbastanza facilmente Anche se comunque l'avversario come avevo detto prima aveva una buona squadra Però ero abbastanza superiore Ultimo acquisto della giornata Peter Cech ci voleva un portiere decente Nel senso che Schwarzer le ultime partite ha giocato abbastanza bene Non benissimo ma neanche malissimo Però è giunto il momento di sostituirlo E quindi prendo Cech Nel prossimo episodio prenderò probabilmente Remy per avere una marcia in più anche offensivamente Comunque cerco un nuovo avversario che ogni tanto mi viene controllo di rete in corso Comunque la squadra come vedete si sta formando, è una buona squadra Peccato che c'è Ivanovic che non è velocissimo altrimenti sarebbe molto competitiva Terza e ultimo avversario, beh ecco questo qui che non ha tanta intesa O meglio quasi tutta intesa, non troppa diciamo Però davvero dei buoni giocatori In ogni caso comincia molto bene con un'azione meravigliosa di Salah Che entra in area, salta tutti con delle finte incredibili Ha un controllo palla e un dribbling pazzesco E riesce a fare il gol dell'1-0 dopo una mezz'oretta di equilibrio Poi però subito dopo faccio una stupidata Qui non temporeggio con Zuma che va giù subito E l'avversario può dribblare, può fare i suoi zigzag E andare dritto in porta e fare il gol dell'1-1 Gol che sarà l'unico di questa partita per il mio avversario Perché poi comunque stavo giocando molto bene Quindi anche qui con un po' di fortuna Ma comunque sarebbe entrato lo stesso Il tiro di Oscar, sempre lui per dirne una Fa il gol del 2-1 poi chiude Hazard Che comunque era da qualche partita che non si vedeva Proprio zero, neanche assist E quindi anche Hazard si fa questo gol del 3-1 Che chiude la partita anche perché l'avversario Ovviamente sul 3-1 decide di quittare Mancava comunque 25 minuti Aveva tutto il tempo per provare una rimonta E in ogni caso lui quitta E quindi i miei giocatori segnano tutti Tranne Drogba però vabbè Comunque raga Per ora sta andando bene Con la squadra mi trovo abbastanza bene Con il modulo pure Appunto devo cambiare Hazard Eh sì Hazard Devo cambiare Drogba Mettere Remy Poi magari Diego Costa più avanti Provare magari non so Un Matic al posto di Michel Che mi sembra un po' più forte Non voglio in questo momento Per ora prendere Fabregas Perché mi trovo abbastanza bene Anzi molto bene con Oscar E non vorrei sostituirlo Però magari si potrebbe anche provare A cambiare modulo Fatemi sapere nei commenti Cosa preferite voi Comunque raga Il video finisce qui Come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace Vediamo se riusciamo ad arrivare a 300 mi piace Per il prossimo episodio E per la grandissima prestazione di Oscar In questo episodio Come sempre appunto Vi invito a scrivermi nei commenti Se vi è piaciuto questo video Se vi piace la serie E quali giocatori prendere successivamente Iscrivetevi al mio canale Pagina Facebook Twitter Instagram Tutti i link li trovate come sempre in descrizione Noi ci vediamo al prossimo video Bella raga